e da che parte vi girate a destra qual è quella che sulla sulla mano destra sulla mano destra ok dico giuro allora ci siamo 1 2 3 via però allora attenzione no 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 va bene poi l'abbiamo già fatto allora siamo qua siamo qua con i nostri tecnici preferiti è notare anche perché siamo gli unici gli unici tecnici preferiti complimenti con l'anziano in mezzo complimenti abbiamo con noi silvio peppe e ernesto ci fa l'alesto la domanda che tutti si fanno è questa no siete in tre quindi tu probabilmente sei uno che legge legge tu sei uno che scrive tu che cacchio fai gli affari miei quindi sei solo qua per mangiare ecco non da mangiare hai capito lui fa l'occhio di bue ah ok fai l'occhio di bue quando c'è fai l'occhio di bue fai l'occhio di bue lui fa l'occhio di bue